Buon salve bentornati su No Mamamazzo, torniamo a parlare di D-Landog serie regolare che ora si chiama D-Landog 666 numero 402 il tramonto rosso. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche, di mettere un bel mi piace così a fiducia a questo video e anche a tutti gli altri video del mio canale, di commentare importantissimo su quello che pensate di questo video, di quello di cui parlo, sul fumetto di D-Landog e di condividere il video con tutte le persone che amano l'indagatore dell'incubo. Vi ricordo sempre anche che nelle mie descrizioni dei video troverete dei link Amazon a cose inerenti a quello di cui ho parlato nel video. Questi particolari link, oltre appunto a farvi acquistare quello che vi consiglio, aiutano il canale economicamente. Quindi mi raccomando, se vi interessano i miei consigli Amazon, cliccate proprio su quei link per acquistarli. Allora, D-Landog 666 402. Cominciamo con la trama. La trama di questo 402 riprende esattamente da dove ci eravamo lasciati alla fine del 401, con D-Landog che è all'interno di Scotland Yard e si scopre che è figlio di Block, che è soprintendente, non è ispettore, e viene però rilasciato, perché appunto non c'era motivo per tenerlo a Scotland Yard, ma viene rilasciato con grande rabbia di Carpenter e con invece la solita calma di Rania. In questa intro appunto Carpenter e Rania mostrano quello che rappresentano i due personaggi, sono due antitesi. Rania è sempre il politically correct a qualunque costo, mentre Carpenter è proprio la persona che agisce di pancia, molto esagitata, che può anche rappresentare in un certo senso il leone da tastiera di cui ci sono anche molti fan duri e puri di D-Landog che non gli va mai bene niente, inveiscono sempre su tutto ciò che sforna il nuovo corso di D-Landog e questo è rappresentato un po' anche da Carpenter, questa fascia di persone che non tollera il politically correct a tutti i costi. Ed è molto bello come presumo succederà, non sempre Rania avrà sempre ragione, perché giustamente il politically correct dopo un po' stufa e mi piace pensare che questi due personaggi spesso avranno, a volte avrà ragione Rania, perché a volte il politically correct è corretto, come appunto ha fatto l'esempio Rania sul non chiamare in modo dispregiativo chi ha una sindrome di Down, ma altre volte il politically correct può stufare e sicuramente avrà ragione Carpenter e questo dualismo mi piace già moltissimo. Si dirada finalmente un po' di nebbia sul passato di questo nuovo D-Landog 666, scopriamo che le sue origini non sono poi state modificate più di tanto. È vero, è figlio del soprintendente Block, ma come avevo supposto nello scorso video della recensione del 401, è figlio adottivo di Block. Scopriamo che, come il D-Landog classico, ha vissuto in orfanotrofio, non sa chi sono i suoi veri genitori, D-Landog è il suo padre adottivo, tra l'altro l'ha adottato anche in tarda età per essere un bimbo adottato. È stato adottato a 15 anni, dopo che appunto si era messo nei guai con la legge, perché in quel periodo stava trascorrendo una parentesi molto punk, molto anarchica, stava trascorrendo i suoi anni selvaggi, tra l'altro citazione a Gli Anni Selvaggi, numero 364 del D-Landog pre-meteora. Pare che in questi anni selvaggi questo nuovo D-Landog abbia fatto anche uso di droghe, oltre all'uso di alcol che avrebbe poi fatto più avanti, a differenza del D-Landog classico, che come dice nel numero 62 i vampiri, non si è mai drogato, ha sempre usato il vecchio buon alcol, come dice appunto in questo numero. Capiamo che il matrimonio con Rania è durato solo due settimane, quindi è stato appunto un matrimonio lampo, dopodiché D-Land si è innamorato di questa terrorista. La terrorista è un chiaro riferimento alla Lily Connolly, che D-Land appunto incontra nel numero 121, Finché morte non vi separe. In questo numero la sposa anche. Tra l'altro se siete stati a Lucca Comics quest'anno avete preso il Wedding Box, dove appunto c'era il matrimonio tra Dylan e Graucio, c'era anche questo numero incluso, cioè il primo matrimonio di D-Landog, con tanto di quest'anello nuziale che era un anello delle patatine a forma di teschio. Se avete preso il Wedding Box siete stati furbi, perché adesso è esaurito sul sito Bonelli. Questo nuovo D-Landog pare che non abbia sposato anche Lily Connolly, comunque si è innamorato, e sappiamo per certo da questo numero che anche questa Lily Connolly è comunque deceduta. Questo ha portato Dylan in un baratro, nel baratro dell'alcol, come nel D-Landog classico, quindi ha iniziato a bere. E scopriamo, come molti di voi avete detto, io onestamente non l'ho collegata a questa cosa, la barba di questo nuovo D-Landog non è casuale, ma è proprio un riferimento al suo alcolismo, perché appunto nei numeri dove D-Landog beve, ha la barba più o meno pronunciata. Qui ha una barba molto pronunciata, ma è dovuto al fatto che D-Landog è attualmente ancora un bevitore. Come lo sappiamo, lo dice Roberto Recchioni stesso nell'introduzione, che vi consiglio sempre di leggere. Ok, qua dice proprio, oggi è un alcolista, quindi non ha ancora smesso di bere. Quando è iniziato a bere, come nel D-Landog classico, è iniziato a bere dopo la morte di Lily Connolly, l'unica differenza è che c'è questa parentesi della custode del cimitero, parentesi appunto che omaggia Francesco della Morte, omaggia il romanzo e il film della morte e dell'amore, però appunto scopriamo che questo D-Land non è diventato il custode del cimitero di Bufalora, in Italia, dove ha conosciuto Gnaghi. Ha conosciuto Gnaghi nel cimitero di Undead, in Scozia. Quindi non hanno fuso, in un certo senso, Francesco della Morte e D-Landog, ma è come se D-Landog abbia assorbito quasi totalmente il personaggio di Francesco della Morte con questa parentesi di custode di cimitero. In questa parentesi, oltre a incontrare Gnaghi, suo primo assistente, incontra anche per la prima volta, o meglio, parla per la prima volta faccia a faccia con la rappresentazione della morte stessa. Ed è la morte stessa che gli suggerisce di diventare un indagatore dell'incubo, proprio perché a Londra inizia a succedere qualcosa, iniziano a succedere degli strani fenomeni. Scopriamo quindi che D-Land in un certo senso accetta di lavorare per la morte, che appunto gli dice di indagare sugli incubi che avverranno a Londra, in cambio di un pagamento molto particolare. Il fatto che D-Landog sia attualmente un alcolista ci permette di vedere in diretta il suo percorso di redenzione dall'alcol, dalla sua fuga appunto da questo demone nella bottiglia, che nel D-Landog classico abbiamo sempre e solo visto nei flashback. Questo ci potrebbe portare a due cose. Un ritorno visivo, fisico al D-Landog senza barba, che appunto sancirà il suo smettere di bere con il fatto di essersi rasato, come nel D-Landog classico, e magari chissà se mai tornasse Graucio, potrebbe tornare proprio per aiutare, o meglio, il primo nuovo incontro con un probabile Graucio, se mai tornasse, potrebbe far sì che sia proprio Graucio stesso ad aiutare D-Land a smettere di bere, come è successo tra l'altro per la serie classica, quella pre-meteora. Se voi andate a recuperare il numero 200, è il numero flashback dove D-Landog incontra Graucio per la prima volta e Graucio diventa suo assistente e lo aiuta definitivamente, definitivamente se va per dire, a smettere di bere. Finiti tutti i vari spiegoni sul passato di D-Landog, si va finalmente a incontrare il cattivo di questi due numeri, che è Xabaras. E Xabaras, che abbiamo visto, intravisto nel 401, uno sa, cosa intendo dire con il fatto che Xabaras sa? Sa che ci sono infinite realtà, non è la prima volta, è cosciente che non è la prima volta che incontra D-Landog, sa di averlo già incontrato. Ed è proprio per questo che impedisce a D-Land di usare il trucchetto della custodia del clarinetto esplosiva per fuggire da una situazione di stallo. Mi ha un po' ricordato questo crisi sulle terre infinite, sul fatto che c'è il post-crisi e il pre-crisi e che alcuni personaggi sanno cos'è successo prima della crisi, in questo caso prima della meteora, come Xabaras, e altri personaggi che invece non ricordano cosa c'è stato prima della meteora, come D-Landog. Il fatto che Xabaras lo sappia è davvero molto interessante, getta le basi su qualche cosa che può avvenire in futuro, come il fatto che D-Land potrebbe iniziare a ricordare cos'è successo. Struttura narrativa. Questo numero ci conferma che la famosa serie di sei numeri dal 401 al 406 ha una trama orizzontale vera e propria molto presente, serve a presentarci con calma queste nuove origini di D-Landog. Infatti il 401 e il 402 insieme citano l'alba dei morti viventi, quindi insieme citano il numero 1. Ed è proprio la fine, l'epilogo del numero 402 che apre la strada al prossimo numero, il 403, che sicuramente citerà il numero invece 2 di D-Landog, che è Jack lo squartatore. Noi sappiamo già che il prossimo titolo sarà La lama, la luna e l'orco. La lama è quella di Jack lo squartatore, l'orco in persona potrebbe essere Jack lo squartatore, la luna è un riferimento al numero 3 del D-Landog classico, che è le notti di luna piena. Perché no? Potrebbero anche mescolare il numero 2 e il numero 3, Jack lo squartatore e le notti di luna piena, creando qualcosa di nuovo. Citazioni e curiosità di questo numero. Innanzitutto vediamo Graucio Marx, ma non l'assistente di D-Landog, il vero Graucio Marx, quello dei fratelli Marx. Lo vediamo in un film alla TV che D-Land sta guardando quando si trova nel cimitero di Undead a fare il custode. La scena famosissima del viaggio in bicicletta verso Undead è una citazione al numero 1, L'alba dei morti viventi, che però, come Roberto Recchioni ha detto, è una citazione a sua volta che Tiziano Sclavi fece per un film. Ora non ricordo qual è il film, perdonatemi, però è giusto per dirvi che Roberto Recchioni non ha copiato quella scena, quella scena dell'alba dei morti viventi, ma l'ha riportata paro paro proprio perché a sua volta omaggiava un film, proprio perché Tiziano Sclavi omaggiava un film nel suo numero 1. Appare Nessuno, il personaggio di Nessuno, di Storia di Nessuno, numero 43 della serie classica. In questo caso è un vero e proprio braccio destro, se così vogliamo dire, di Xabaraz. E proprio come in Storia di Nessuno, vediamo che c'è il galeone senza nome sottoterra, nel sottosuolo, nelle acque delle fogne del paese di Undead, dove in questo caso è proprio la sede, diciamo, di Xabaraz. Tra l'altro il numero 43, Storia di Nessuno, finisce con Xabaraz che si dirige con una barchetta nel galeone senza nome, che in questo caso è nel sottosuolo, già nel numero 43. È come se fosse arrivato alla fine del numero 43 nel galeone, ci si fosse stanziato e ora nel 402 abbiamo visto di nuovo questa scena di lui appunto che ha lì la sua base operativa. la sua base operativa circondata da non morti e da pirati non morti ed è d'obbligo, quando si tratta di pirati non morti, di fare una citazione a Pirati dei Caraibi. Infatti c'è il pappagallo, nel numero 402 di Dilan Dog 666, che dice pezzi da otto, pezzi da otto, anzi in realtà dice pezzi da otto, pezzi da otto e lo dice in riferimento al terzo capitolo della saga cinematografica Pirati dei Caraibi ai confini del mondo dove appunto i pirati dovevano recuperare sei pezzi da otto, sette pezzi da otto, nove pezzi da otto mi sembra per risvegliare la Deacalipso. Dilan e Sibyl vedono al cinema Evil Dead, a titolo italiano La Casa di Sam Raimi. Sam Raimi famoso appunto per essere il regista della trilogia della casa, La Casa, La Casa 2 e L'Armata delle Tenebre. Ma famoso anche per la trilogia classica di Spider-Man, quella dal 2002 al 2007, quella con Tobey Maguire. La differenza è che invece nell'alba dei morti viventi, ovvero nel numero 1 del Dilan Dog classico, Dilan Dog e Sibyl andavano a vedere al cinema Zombie di Romero. E non ho altro da dire su questa faccenda. È una citazione di Forrest Gump. Dilan Dog, alla fine del numero 402, parla ancora una volta col suo padre adottivo, il suo pretendente Block, raccontandogli quello che è successo ad Undead e conclude con E non ho altro da dire su questa faccenda, che è la catchphrase di Forrest Gump quando appunto finiva di raccontare una sua esperienza. Ovviamente gli altri mondi, le infinite realtà che cita Xabaraz, oltre a tutto il ciclo pre-meteora, sono anche tutte le altre testate dilaniate. L'Odd Boy, il Color Fest, il Nero della Paura, tutti i vari speciali annuali che sono usciti i primi anni, i vari magazine, anche il Dilan Dog della realtà alternativa in cui vive Morgan Lost, quello che, se avete, non vi spoiler cosa succede, però è un Dilan Dog alternativo, recuperatelo se volete, anche il Dilan Dog alternativo, perché si tratta di un Dilan Dog alternativo, quello che vive nello stesso mondo dove vive anche Batman, miniserie che uscirà quest'anno, e perché no, anche il Dilan Dog della futura serie TV che uscirà anche questa, non so se quest'anno o più avanti. Quindi tutte queste realtà sono realtà che Xabaras conosce. Ma parlando seriamente, mi sta piacendo questo nuovo corso di Dilan Dog, mi sta piacendo questo Dilan Dog 666. Allora, devo dire che quando ho letto il numero 401, mi è piaciuta come storia, sono stato molto colpito, poi passano un attimino i giorni e dico, cavoli, certo che però tutti i vari numeri che ho letto, ci sono alcune cose che, a parer mio, non sono state chiuse, sarebbe stato bello se le avessero chiuse in un certo modo, invece le hanno lasciate un po' incompiute. Adesso c'è questo nuovo corso che pare si abbia tirato una passata di spugna su tutto il passato e quindi ci sono delle trame che io non vedrò mai concluse. e questo mi mette un po' di tristezza. Però poi, quando riprendo in mano in questo caso il secondo numero, quando ho ripreso in mano il secondo numero, mi è ritornata la passione di dire però questo numero è proprio bello e quindi per un po' di pagine mi sono dimenticato tutti questi miei pensieri negativi su tutto il vecchio corso di Dilan Dog. Inoltre, il fatto appunto che Xabaras sappia dell'esistenza di altre realtà oltre a quella chiaramente del pre-meteora mi fa ben sperare che questo non dico sia una sorta di flashback di quello che è già successo appunto nei primi numeri ma che comunque in un certo modo si possa ricollegare alla storia principale ai numeri 1-400 alla storia pre-meteora e questo mi fa sperare mi fa fare quel salto della fede che ci ha chiesto di fare Roberto Recchioni nella intro del 401. Quindi io voglio fare comunque questo salto della fede nella fede nel personaggio di Dilan Dog e vedere appunto se questa fiducia che sto dando a questa miniserie di sei numeri mi premierà. Inoltre voglio farvi notare che Roberto Recchioni aveva detto che voleva concludere il numero 400 con la conclusione della sua trilogia della sua mater trilogia mater morbi, mater dolorosa e ci dovrebbe essere un terzo numero su questa sua trilogia. voleva farlo nel 400 ma non ha voluto togliere spazio a un numero commemorativo c'è comunque una comparsata di mater morbi ma concluderà più avanti questa sua trilogia. Questo mi fa ben sperare appunto che prima o poi il nuovo corso di Dilan Dog si ricongiunga al pre-meteora. Bene, ora sono io che non ho altro da dire su questa faccenda io vi invito appunto a commentare su quello che viene perso a voi di guardare i link di Amazon di tutto quello che ho detto all'inizio sull'iscrizione al canale eccetera eccetera guardate tutti gli altri video della playlist di Dilan Dog ne usciranno altri questa settimana parlerò di Morbo M così per stare in argomento magari parlerò anche dell'ultimo uomo sulla terra sempre per stare in argomento coronavirus potrei parlare anche magari del Color Fest vediamo se ho tempo parlo anche di questi numeri nei prossimi giorni io davvero davvero vi dico adesso è tutto con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e arrivederci grazie